Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Grazie di essere qui per questo nuovo appuntamento della serie Segna Libro. Quegli appuntamenti in margine alla stagione che dedichiamo a zoomate, approfondimenti, focus, presentazioni intorno a libri che in qualche modo intercettino la programmazione, l'attività del piccolo teatro. È il caso per l'appunto del libro di cui parliamo oggi, un romanzo in canto di Antonio Latella. Non importa certo che vi racconti chi è Antonio Latella e il significato che Antonio e il percorso artistico di Antonio hanno per il piccolo teatro di Milano. Tra l'altro proprio in questi giorni Antonio sta presentando un suo lavoro al teatro Streller, la locandiera e al contempo è impegnato nell'attività all'interno della nostra scuola come momento finale di un percorso che si è sviluppato nell'arco degli ultimi tre anni che ha accompagnato per l'appunto gli allievi della scuola del piccolo nel loro triennio di formazione. Quindi già questa doppia presenza ci spiega quanto il lavoro di Antonio sia stato sia significativo che sia stato significativo per il piccolo in questi anni. Ricordo anche che all'interno di questa stessa stagione Antonio era già stato presente sulla fine del 2024 con l'esito, con una tappa di un ulteriore percorso pedagogico di approfondimento la bottega amletica testoriana connessa alle celebrazioni del centenario testoriano. Tutto questo semplicemente per dare un quadro di riferimento a un libro che invece è il vero protagonista dell'appuntamento di oggi che è assolutamente autonomo da tutto quello di cui ho parlato un romanzo per il quale è una categoria che mi sono trovato spesso ad usare quando mi sono trovato a introdurre appuntamenti di segnalibro mi riferisco alla categoria di teatro in forma di libro cara a Taviani per parlare di quelle esperienze letterarie che rientrano a tutti gli effetti nell'ambito della dimensione letteraria ma che al tempo stesso hanno in sé una forza teatrale che li rende un palcoscenico vero e proprio che esorbita la dimensione della della pagina strettamente narrativa credo che incanto abbia caratteristiche di questo tipo sia una specie di punto di intersezione di incrocio di vortice tra una pulsione una passione letteraria in senso stretto e una sapienza un'esperienza una forza teatrale che ne pervado ogni pagina ma non sono certo io a dovere entrare nel merito della presentazione di questo libro ringrazio federica mazzocchi e federico bellini per essere qui con noi oggi per per parlare insieme ad antonio d'incanto ringrazio anche la casa editrice il saggiatore in particolare andrea gentile che è qui con noi oggi ovviamente hanno avuto una parte fondamentale nella realizzazione di di questo libro oltre che essere degli interlocutori privilegiati per tanti altri percorsi in bilico fra teatro e letteratura grazie e buon incontro benvenute e benvenute a tutte e a tutti sono molto contenta finalmente ce l'abbiamo fatta perché dovevamo già fare questo incontro ma io poi ho preso il covid quindi sono rimasta così tagliata fuori da una occasione di di conversazione con antonio e federico che appunto aspettavo da molto tempo sono molto d'accordo con con il direttore claudio longhi quando parla appunto del teatro in forma di libro citando il bellissimo uomini di scena uomini di libro appunto e secondo me il libro di Antonio è anche la come dire la dimostrazione evidente di quella principio che a cui molti siamo affezionati cioè che il libro non deve essere uno specchio ma deve essere una porta una porta per l'oltre per qualcosa dove non ti aspetti di arrivare e di essere il suo romanzo è come l'unico aggettivo secondo me che riesce in qualche maniera forse dire qualcosa di lui è oceanico perché è una narrazione molto complessa molto vasta molto appunto avvolgente e l'altro ci sono tutta una serie di aggettivi poi magari ne parliamo che mi hanno no no brutto no ossessivo è un romanzo stranissimo perché è un romanzo che non impedisce delle reazioni neutre io mi ricordo che con incanto ho avuto dei processi di innamoramento di arrabbiatura furibonda della serie basta smettila metti un punto questo capitolo potrebbe anche finire qua invece andava avanti e il certe pagine avevo la sensazione di fare una scalata dicevo va bene ancora 17 pagine di muro di o di scalata da fare della della scena tal dei tali del romanzo questo perché perché è appunto una scrittura una narrazione che ti implica moltissimo per questo anche sono molto d'accordo con claudio che è teatro perché ti attraverso il ritmo è molto musicale ma non nel senso della dolcezza ma è attraverso la ponteggiatura e la grafica grazie anche alle intuizioni di saggiatore ha delle forme ritmiche che manipolano molto il corpo del lettore quindi tu sei in una relazione cinetica con il con la pagina io ogni tanto mi devo alzare in piedi leggevo in canto in piedi perché genera delle forme di parossismo di ossessività di stanchezza terribile di entusiasmo al proprio perché c'è un lavoro sulla parola questa è una storia d'amore è una storia d'amore perché c'è una storia d'amore familiare insomma adesso poi antonio racconterà se vorrà ma c'è anche una storia d'amore con la parola con il gioco dei significanti con l'aggancio del flusso di parole che davvero ti trascina ed è impossibile avere una reazione estetica e basta poi in alcune pagine oggi facciamo dio un po il gioco della verità aiuto alcune pagine non mi sono piaciuto no ma non puoi scrivere così e invece perché non è più non siamo più dentro un'esperienza estetica di giudizio io poi non sono una storica della letteratura quindi non non mi spingo su questi territori ma è un'esperienza molto più implicante più emotiva più fisica più corporea e questo mi ha colpito molto perché non sono molte le occasioni perché questo accada ancora pochissime parole poi tocca a te o a lui insomma chi io ho letto il romanzo perché antonio e federico sono stati estremamente generosi sono venuti per due anni al dams a fare un insegnamento splendido e che è rimasto fra le cose più belle che abbiamo fatto come dams e un giorno arriva antonio mi leggeresti una cosa figurati tra mai me dicevo magari la leggo già questa settimana così almeno poi ne parliamo e si manifesta con un sacchetto grosso con dentro cos'è un capitello di pagine alte così e a spaziatura uno e questa cosa da un lato io mi sono svenuta dall'altro però appunto è cominciato questo questo questa caduta all'interno come il noto film e romanzo a cui il testo si ispira in qualche forma che tutte le che si rigenera peraltro si rinnova tutte le volte che apro incanto quindi il mio incanto è stato una una esperienza difficilmente dimenticabile credo che va bene ma adesso come vedete aiuto sento che sta tornando insomma è un oggetto un po stregato c'è qualcosa di stregato qua giustamente si chiama così perché appunto adesso io infatti cedo volentieri la parola allontaniamo questo 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 vai 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 fede buonasera a tutti innanzitutto ringraziamo saggiatore per aver avuto anche il coraggio ovviamente di pubblicare un libro che rasenta le mille pagine finita la la versione diciamo la visione la visione allontanante e respingente iniziamo quella sto scherzando ovviamente no volevo appunto parlare con antonio federica ha citato già delle cose molto importanti che attraversano il libro la cosa forse forse più difficile nel momento in cui è stato chiesto antonio spesso è la domanda più banale di cosa parla la storia c'è una storia ovviamente una storia che se viene raccontata in qualche modo perde di usiamo questo aggettivo oggi spoilerare viene anticipata la cosa che mi verrebbe da chiedere ad antonio immediatamente è perché diciamo questo titolo che è già estremamente evocativo è già estremamente importante in canto e che tra l'altro diciamo occupa anche la prima pagina del del volume beh allora per prima cosa devo dire che io non ho scritto questo lavoro pensando che sarebbe diventato un libro scrivevo per me la mattina tutte le mattine normalmente dalle sei e mezza alle otto e mezza e per evitare le sedute di psicanalisi scrivevo e mentre stavo scrivendo è arrivata una telefonata di andrea che mi ha chiesto ma è vero che stai scrivendo una cosa io gli ho risposto in realtà si sto scrivendo ma non so che cosa sia non è che stavo pensando di scrivere una storia anzi se pensavo a cosa scrivere non scrivevo cioè se la sera domani domani scrivo questa cosa non scrivevo e era più una una sorta di connessione con con l'altro me con l'altra parte di me una parte lasciata dormire per troppo tempo lungo lunghi sonni diciamo che si è risvegliata durante il lockdown una parte di antonio più fragile più non istituzionale più timido una cosa che io avevo messo da parte per la questo proprio per per affrontare il ruolo istituzionale che in alcuni sedi mi danno quello che dici tu federico sull'incanto è per me qualcosa di fondamentale nel senso che la mia vita è suggellata da shock che sono cose fondamentali gli shock mi hanno cambiato gli shock hanno creato per me curiosità voglia di andare avanti voglia di scoprirmi voglia di capire perché subiscono shock e la questione dell'incanto l'incanto è qualcosa che ti assale forse una volta due volte nella vita e quando ti assale ti mette una condizione talmente assoluta che poi la ricerchi per sempre io ho avuto l'occasione di subire un incanto forse un paio di incanti e credo per tutta la vita ho cercato di rincorrere l'incanto e da questa parola incanto quindi qualcosa che ha a che fare col canto e quindi con un'altra voce interiore è partita la scrittura la prima le prime parole sono state proprio una la descrizione di un'immagine e da lì si è aperto una sorta di di sorpresa guardarsi dentro un lago e scoprire ma che cosa ti sta accadendo ecco incanto è stato questo un viaggio molto importante che chiede di viaggiare non chiede di capire chiede di viaggiare e quindi se tu accerti il viaggio poi scopri la storia all'interno del viaggio e come tutti i viaggi ha dei momenti esaltanti dei momenti faticosi dei momenti pericolosi dei momenti respingenti tutto questo io ne sono totalmente consapevole la stessa casa editrice è consapevole di questo viaggio che viene chiesto al lettore una cosa che mi ha insegnato la casa editrice che io non sapevo per esempio io essendo un regista lavoro sempre 1 a 800 1 a 500 quando ero più giovane 1 a 10 parlo degli spettatori mi hanno insegnato che invece il rapporto è 1 1 è qualcosa di anzi devi diventare un uno con il lettore quindi una cosa che loro mi hanno insegnato questo non vuol dire agevolare per forza ma averne a meno la consapevolezza che tu prendi una persona che ha deciso di leggerti e di viaggiare con te quindi devi avere la dolcezza e allo stesso tempo la violenza di accompagnare in un viaggio e spero che questo crei incanto mi auguro che questo accada insomma sì anche io ero molto incuriosita perché è un libro mi sono chiesta ma c'era un piano di lavoro ti sei fatto hai fatto una mappa perché in realtà è un libro con moltissimi livelli molto complesso ma anche alla fine tutto torna tutto trova una propria sintesi come hai tenuto le fili proprio narrativi della dell'intreccio ma anche le tantissime figure che hanno parte della storia ecco c'era lì come hai lavorato per non perdere il filo appunto e la mappa la mappatura del tuo percorso una cosa che mi si chiede molto all'estero più che in italia spesso di scrivere i testi all'estero in germania sono più autore spesso con federico vellini scriviamo i testi insieme quindi indubbiamente c'è una parte autoriale e sicuramente un mio essere drammaturgo questo è qualcosa che agevola il lavoro no non c'era nessun piano non c'era neanche un piano di scrivere un libro cioè c'è stato qualcosa che oggi se ci penso è come se si fosse collegata qualcosa io quando ero piccolo scrivevo molte storie è come se si fosse aperta quella porta di che era stata cui parlato di porta prima una porta dimenticata è tutto arrivato da solo anche le connessioni anche rimandi c'è un filo che lega ovviamente c'è il mago di hoz che è un punto di ispirazione che mi ha accompagnato in questo viaggio e non c'è doroti ma c'è la ricerca di doroti la cosa importante per me è parlare della parola questo è come se la parola forse un personaggio e la cosa più importante che si scopre un certo punto è che la protagonista vera è la storia non il racconto o la narrativa è la storia che si fa personaggio e la storia ha bisogno di tutte le storie e quindi ruba storie continuamente alle vite per poter continuare a essere storia no non memoria che è un'altra cosa cioè una storia che si nutre di storie è un po' vampiresca come come situazione il personaggio della storia per me è qualcosa che mi accompagna da sempre mi accompagna come in questo caso uso la parola scrittore pur non essendolo mi verrebbe da usare la parola drammaturgo ma anche come regista poi la stessa domanda se tu me la fai da regista io ti rispondo io non decido mai che cosa farò alle prove lascio che accada se non accada lascio andare perché decidere vuol dire imporre agli attori qualcosa che rifiutano e l'accadimento è la comunione no e per me è stato lo scrivere un accadimento continuo e quindi una sorpresa io spesso sia tu che tu anche Andrea mi ha mandato una lettera dove scriveva una cosa io ho chiesto a Federico chi l'ha scritta e Federico mi ha chiesto come l'hai scritta l'hai scritta tu cioè io non ho avuto questa sorta di lucidità che forse dovrebbe avere uno scrittore quindi di conseguenza dico nello stesso tempo c'è il lavoro di drammaturgo da anni che è quello del detective il drammaturgo è un detective che crea le sue prove i suoi indizi per poter poi continuare a tracciare una storia mentre scrivevo ho continuato a scrivere anche quando questa prima parte si è chiusa la storia è andata avanti e sta andando ancora avanti quindi più che un romanzo è un processo creativo vivo torno a dire non è il mio mestiere però è una mi presto a questo sì hai accennato alla parola no al fatto fondamentale dell'uso della parola e dell'attenzione data alla parola c'è una cosa che credo riguardi anche i tuoi lavori oltre a incanto diciamo che è il fatto di scomporre una parola che magari è di uso comune o qualcosa che usiamo tutti e che in qualche modo sia scomponendola che vedendo l'unione delle lettere che la compongono ti permettono di vederla da un altro punto di vista io credo il punto di vista sia uno dei temi di incanto è un tuo modo di leggere anche non solo di scrivere un testo o un'opera di letteratura come questa a monte c'è un fatto ovviamente privato e soggettivo che ha a che fare con la dislessia scoperta molto tardi e quindi scoprire che tutta una serie di cose che io non riuscivo a fare da ragazzo erano legate al fatto di essere dislessico io a 16 anni quando mi chiedevano di leggere leggevo come un bambino di 6 anni, 7 anni per me era un inferno leggere in pubblico lo è tuttora però la questione quella per me è stata la mia magia nel senso che all'interno di una parola io vedo centinaia di parole e alcune volte anche quando lavoro con gli attori mi dicono no ma Antonio c'è scritto così sì lo so ma io sto magari c'è scritto guanto e io leggo manto e per me quel guanto diventa il manto e di conseguenza si apre una porta che non è logica e questa non logica mi permette di stare in una altra situazione che è quella della scoperta sicuramente molti di voi lo hanno fatto di prendere una parola di scomporre da quella parola creare tante parole è un gioco bellissimo Antonio, Nino e poi Tony e poi Ano e poi compagnia bella è venuto fuori Ano scusatemi però la scomposizione di una parola è di conseguenza una storia perché in una parola ci sono tante parole che la compongono e la scomposizione di quella parola crea un racconto e questo mi affascina in modo pazzesco mi ha affascinato molto proprio collegandomi a quello che hai appena detto anche il lavoro sui significanti perché anche la forma della parola è rilevantissima e anche tutto il lavoro grafico in cui credo abbia avuto una parte consistente anche Federico e naturalmente anche loro perché una cosa secondo me avete fatto un lavoro stupendo perché quando ho letto quel famoso tomone a corpo 1 lui faceva paginate tutte maiuscole senza punteggiatura ovviamente e io gli dicevo ma perché mi urli addosso? perché mi stai gridando addosso? e lui giustamente dice no ma guarda che non sto gridando è un modo per appunto lavorare anche il corpo grafico della parola e loro devo dire hanno trovato una misura bellissima in cui io non sento più questo suono alto troppo che mi investe ma hanno compreso il tipo di invece necessità che aveva Antonio anche con questo lavoro sulla parola come corpo è legato al fatto che io quando scrivo ho bisogno di abitare la parola e anche quando scriviamo i testi di teatro io spesso scrivo tutto in maiuscolo poi lui corregge tutto con grande pazienza perché ho bisogno di abitarla la parola di vederla poi ho scoperto io non lo sapevo che scrivere in maiuscolo vuol dire urlare questa cosa io non la sapevo per mia ignoranza però spesso scrivo in stampatello per esempio maiuscolo perché quando scrivo in corsivo poi non riesco a leggere ciò che ho scritto e non riesco proprio spesso scrivo a mano io quindi quando scrivo in corsivo quello che ho scritto non riesco a leggere non so che cosa ho scritto e quindi per avere un ordine ho bisogno di scrivere in stampatello questa cosa è stata molto discussa con Marco e con Federico e abbiamo capito che quando ci sono delle cose legate all'emotività e quindi al cuore che è l'organo fondamentale di incanto il muscolo cuore la parola cuore alcune cose vengono scritte in maiuscolo proprio per permettere di fare un viaggio emotivo al lettore e altre cose vengono scritte in eretto perché diventano anche in quel caso diventano emotive c'è nella storia un personaggio che non si scopre subito ma si capisce dopo un po' che è la didascalia che diventa un vero personaggio e chi ha lavorato con me sa quanto io uso la didascalia la didascalia in questo caso diventa un personaggio che fa fatica a convivere con le altre creature e quindi fa anche fatica a salire su un aereo per esempio perché non trova mai un posto dove sedersi insomma è una storia dove ci sono le pannacotte che parlano i draghi che guardano la televisione fanno i provini per il trono delle spade oppure ma c'è anche nello stesso tempo un scendere nella profondità della parola e non nella chiacchiera a proposito di quello che dicevi una delle cose che credo fondamentali siano quella appunto di far parlare anche le cose che oggettivamente sarebbero inanimate e quindi appunto una panna cotta magari animata ma le sedie o o altro una scatola nera di un aereo tutto parte da un ipotetico viaggio aereo dove si trova probabilmente perché devo usare questi avverbi perché è importante pensare che non sia una delle caratteristiche del libro che ciò che è dato in un certo momento viene spesso negato e rivisto quindi è per quello che è difficile raccontarlo no? in termini lineari al tempo stesso questo fare parlare anche le cose gli oggetti che credo che sia qualcosa che ti riguarda anche teatralmente se vuoi di dare voce al tempo stesso rende il libro anche un viaggio che a mio avviso non ha a che fare col fantastico puro ma ha a che fare con un'istanza emotiva non so se sei d'accordo cioè col tuo rapporto con le cose onestamente quello che chiamiamo io penso che ci sia anche un livello più easy nel senso che ciò che per voi forse vi turba è che voi avete letto tanto c'è un lato infantile nel senso che per un bambino è normale che una sedia parla per un bambino è normale che un possa parlare con l'amico invisibile non è una cosa così lontana e secondo me c'è qualcosa che invece va recuperato che è proprio il lato infantile nel lato infantile certo posso citare Giordano Bruno e parlare dell'anima delle cose cioè pensare che Giordano Bruno scegli il teatro proprio perché gli permette di far parlare una sedia e di far vedere l'anima di quella sedia ma posso anche lavorare in modo più basic e pensare che in un cartone animato le zucche parlano e quindi è un po' come tu ti poni a leggerlo se lasci andare la scoperta del tuo bambino allora fai un viaggio di recupero se invece vuoi capire allora fai un viaggio per capire che alcune volte è meglio cercare di non capire a tutti i costi ma di lasciare che lasciarti accompagnare e poi aspettare che accada qualcosa che ti prenda per mano in questo caso forse c'è un buon equilibrio anche grazie al lavoro che è stato fatto di tagli di ridimensionare alcune cose era molto più lungo però giustamente no tra l'altro devo dire che sia Andrea che Marco non hanno chiesto di tagliare in questo loro sono come sono stati straordinari cioè nel senso non è che trovi tutti i giorni una casa editrice che ti dice no Antonio non tagliare questo è importante è importante fare attraversare questa montagna per poi capire e questa cosa è stata all'età stiamo parlando con un uomo di 56 anni non è che sono un ragazzino quindi essere accompagnato in questa cosa in questo modo è stato veramente importante poi naturalmente se qualcuno ha curiosità cose fateci un segno che vi diamo la parola come? ah grazie che gentile questa cosa che dici della della dimensione ludica infantile è molto è una delle cose più come dire travolgenti del romanzo io vi invito solo a un certo punto vi dico la pagina non lo leggo io perché lo rovinerei sarebbe un disastro ma la parte della scimmia è una delle mie preferite i sedili che parlano oppure la didascalia anche lei è stupenda insomma ci sono delle veramente delle dinamiche liberatorie estremamente gioiose e quasi sì scatenate c'è un processo di scatenamento che ti che ti travolge a volte ho avuto come l'impressione anzi volevo chiederti due cose la prima è questa questione di farsi canale se ho capito bene e come si determina questa possibilità perché è una delle cose credo più complesse e che caratterizza anche la personalità artistica poi prima invece scusa salto a tutt'altra cosa come tu dici che io salto sempre a socio dicevi non è un libro sulla memoria centra la storia non c'entra la memoria invece io l'ho sentito un libro sul tempo per me il mio incanto è stato anche il tempo che è un tempo estremo come tu ci hai abituato a una temporalità spettatoriale estrema che è quella che poi amiamo almeno per me andiamo a vedere le tue cose le maratone anche proprio perché c'è un salto in una temporalità che è totalmente altra e anche qui ho sentito un rapporto col tempo con la memoria che era veramente cruciale il tuo lettore è un lettore estremo in questa specie di trappola di parole che tu fai per non so Federica perché per me il tempo è una convenzione cioè è una convenzione che ci siamo dati per me non esiste il tempo a parte la finitudine del nostro corpo che prima o poi deve finire ma ciò che sta all'interno non ha tempo forse l'unico tempo in cui io credo sono le quattro stagioni ma per il resto non c'è un tempo cioè è un'invenzione è una convenzione c'è un ritmo che noi codifichiamo e rendiamo misura ma il tempo per me è proprio una meravigliosa condizione cioè non esiste per me il tempo non esiste e non esiste né quando faccio le mie cose private non esiste quando lavoro non esiste quando quando mi regalo dei momenti intimi importanti cioè il non tempo è la cosa che più mi 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 permette di scoprirmi e di crescere e di uscire da una convenzione sociale e mi piace tantissimo lavorare sul fatto che il tempo non esiste quindi sì c'è un non tempo in questa storia che si ripete ciclica no ma come lo è quasi tutto il mio lavoro credo che sia fondamentale anche quando fai teatro alcune volte mettere lo spettatore davanti a una condizione c'è il tempo teatrale ovviamente che lo spettatore vuole ma c'è anche il tempo non teatrale che è bello metterlo in scena quello spaventa lo spettatore perché lo spettatore il tempo non teatrale lo riconosce e non lo vuole lo annoia però è proprio nel tempo non teatrale che esiste la possibilità di un processo creativo e così anche nella scrittura per me questo ti permette di viaggiare continuamente nel tempo e quindi di essere viaggiatore come la nostra una la nostra Dorothy la nostra R7 che ha tre nomi si chiama R7 perché ha un difetto della R e lei tutte le volte che pronuncia la R ha una R che dura 7 R e quindi io prima lo scrivevo con tutte le R allora hanno detto ma se la chiamiamo R7 potrebbe essere meglio no? facciamo prima detto questo però è un continuo viaggio nel non tempo quindi è la possibilità di viaggiare nella storia nella storia che per alcuni di noi è memoria per altri è ciò che continuiamo ad essere e quindi è il processo della creazione l'altra domanda non me la ricordo ma è qualcosa che ha a che fare con una condizione uso una parolaccia forse può spaventare sciamanica è la io se non riesco se non mi connetto non riesco a fare le cose quindi è una sorta di connessione che una volta ho conosciuto una sciamana in Russia e lì ho capito la connessione che ho io con il mio lavoro è qualcosa che più direi sciamanico cioè lasciare che questa finitudine che tu sei sia attraversata da qualcosa che tu non sai neanche di essere e lasciare che questo accada e allora questo permette la nascita continua di ciò che accade come sta accadendo adesso ti lascia attraversare e non è che pensi a quello che devi dire lo fai accadere quindi lo crei e questa è una condizione faticosissima ma nello stesso tempo meravigliosa sembra di chiederti il libro ha una struttura particolare perché parte in qualche modo con dei personaggi che poi vanno un certo senso a dissolversi e rimane come dicevi tu probabilmente la storia come protagonista addirittura addirittura non vengono indicati i personaggi quindi avete di fronte quello che sembra un flusso di coscienza e la cosa che mi ha colpito molto leggendolo è cosa ti ha portato sempre di più poi avendo letto anche altre cose che hai scritto a una narrazione che abbandonasse diciamo quello che potremmo definire romanzo teatrale e che andasse verso una narrazione che non ha più neanche il personaggio non ha più neanche l'aggancio del parlante del referente ma la cosa che trovo interessante e questo anche devo dire grazie al saggiatore trovo interessante che c'è un tentativo contrario nel senso spesso noi prendiamo i romanzi li adattiamo per portarli in teatro è interessante fare il contrario prendere una forma teatrale adattarla per il romanzo e quindi è il processo contrario questo processo è incredibilmente affascinante allora e cosa accade quando tu lavori con un testo teatrale dipende il mio approccio cambia sempre dagli autori ci sono degli autori che ti chiedono proprio un'analisi incredibile sul personaggio spesso grazie o anche non grazie al novecento siamo andiamo a fare un'analisi psicologica eccetera eccetera il personaggio a freddo non ha voglia di mangiare eccetera eccetera creiamo un altro testo un sottotesto che però nel testo non c'è il personaggio dice quelle parole e sono le parole che creano il personaggio non sono i sottotesti cioè le parole sono il costume che creano il personaggio non è il sottotesto poi il sottotesto è necessario per un certo tipo di teatro ma la parola è il personaggio la parola forma il personaggio certo poi c'è l'eccellenza una parola detta da Laura Marinoni non può essere la stessa parola detta da Sonia Bergamasco suona in un modo totalmente diverso perché hanno il loro mondo la loro eccellenza che mettono a servizio della parola no? e la potenza del romanzo per me è quello che tu leggendo le parole di un romanzo ti connetti e diventi tu allora tutte le volte che uno vede un romanzo un film un film tratto da un romanzo uno spettacolo che dice sì però quando me lo sono letto per me era diverso certo era diverso perché l'hai il tuo no? e questa connessione che è appunto l'uno a uno che sto cercando di imparare è qualcosa di di importantissimo sto dicendo delle ovvie banalità credo diciamo domande più stupide perché il giallo il giallo come colore dominante il giallo allora il giallo perché l'incanto è vero viene narrato all'inizio era una mostra di una biennale d'arte c'era un artista tedesco che faceva un tappeto di polline giallo e per me fu un vero incanto cioè ci pensai giorni e giorni lo invidiai in un modo incredibile cioè quella solitudine tu e il tuo pensiero staccato da tutto sei lì che crei un tappeto giallo fatto di polline e è qualcosa di incredibile di 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 assoluto e per quella cosa io provai una pensai mi piacerebbe essere te ecco non mi piacerebbe essere in contatto con la con la mia ricerca e non doverla sempre condividere ma stare con me collegato con me e quello creò veramente un incanto e poi quando andai a vivere a Berlino che era tutto grigio la prima cosa che ho fatto con a mio marito e comprare un tavolo giallo senti mai un personaggio del cuore o no come come i figli si amano tutti uguali nel romanzo si no 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 non c'è un personaggio no no mi piace molto detective mi piace no no non c'è non c'è ho un'affezione per tip è un personaggio che è bimbo e bimba e questa cosa mi piace molto però la cosa che oggi mi 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 emoziona è proprio la la tensione di queste creature che vanno tutte ad incontrare un solo luogo e credo che alla fine è proprio il luogo la cosa più importante ma il fatto di Tipanto è che è un personaggio ovviamente fondamentale del libro lo incontrate poco prima di metà libro ci pone anche di fronte a una cosa di cui accennavamo all'inizio cioè alla varietà dei punti di vista che credo sia anche abbastanza vicina molto vicina a quello che fai anche a teatro cioè a far vedere le cose da da un'angolazione che magari non siamo abituati a vedere e lì soprattutto in Tip nelle varie immaginazioni di Tip di quello che può succedere così come avviene nel romanzo c'è questo spostamento continuo di ciò che sarebbe potuto accadere se le cose fossero andate in un certo modo in un certo modo se avete visto il film Sliding Doors se avesse se fosse andata in un certo modo le cose avrebbero preso un'altra piega è come se il libro non so se sei d'accordo in qualche modo cercasse di contenere anche le possibilità che che una storia di raccontarsi ed essere raccontata in tutti molti i suoi sviluppi sì però è anche questo infantile perché secondo me la maggior parte del tempo quando sei adolescente ti dici se avessi fatto così se avessi fatto questo se avessi fatto questo il libro questi se se li dà come possibilità no? perché è possibile proprio perché non c'è un tempo quindi è possibile vedere le varie possibilità io cito nel libro delle passioni cito Kill Bill cito David Lynch cito delle delle figure a me care e e queste figure care sono tutte figure che lavorano sul non tempo quindi sulla sulla rottura del riuscire a mantenere una storia nella nell'assurdità e è proprio il tema dell'assurdo è qualcosa che a me mi appassiona da morire perché è la vita che è assurda è incredibilmente assurda la vita quindi è per questo che è meravigliosa cioè l'assurdità tu esci di casa e boh non sai se torni cioè dai per scontato che torni ma non è detto e quindi è proprio questa la cosa del libro cioè e questo secondo me si sente spero almeno questo c'è anche l'assurdo come dicevi l'assurdo quotidiano cioè non soltanto l'assurdo che nasce da magari prendere una pasticca e farla diventare la realtà assurda cioè proprio l'assurdo che c'è nella vita l'assurdo è una condizione è una condizione che tu decidi di mettere ordine o no però l'assurdo è è meraviglioso cioè è una condizione cioè sei qui perché è assurdo è un caso certo ti hanno voluto ma è un caso è andata bene mi dirà come vuoi se sei nichilista è andata male però è andata bene quindi l'assurdo è una meravigliosa condizione ci sono curiosi sì Massimiliano era interessato è una domanda che riguarda un po' anche il teatro il modo di lavorare nel teatro e questo e questa avventura di scrittura quanto l'onirico l'onirico proprio nel senso della connessione anche al 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 sogno al sogno che è un altro tipo di connessione sembra quasi che da come ne parli questa connessione onirica tu ce l'abbia nella realtà nella quotidianità di tutti i giorni nel senso come una fonte come una fonte da cui attingere da cui è collegato insomma perché sembra offrire uno sguardo sulla realtà questa i sogni ci parlano ci dicono delle cose e anche dall'esperienza dei tuoi lavori c'è questa dimensione onirica molto forte allora in questo senso non so se non so se è chiara la domanda cioè beh per me i sogni sono una condizione cioè proprio io se appena chiudo gli occhi mi addormento sogno subito e proprio so ci sono i miei amici che dicono che non sognano mai io sogno in continuazione quindi mi piace andare a dormire per sognare stamattina è stato un inferno per esempio sono svegliato alle 5 ero a Parigi e in aeroporto dovevo prendere un un aereo e continuamente non trovavo il gate e quindi però il gate era non era un aeroporto normale era un parco giochi quindi io correvo da un gioco all'altro ma non trovavo mai il 21 che era il numero che dovevo prendere e quindi avevo ste valigie correvo e mi sono svegliato sfinito cioè quindi la condizione il sogno è per me è quell'altra e quell'altra parte necessaria necessaria a nutrire la convivenza con la veglia il nostro essere vegliardi no? è qualcosa che siamo svegli e quindi viviamo un'altra condizione di sogno non so se ti ho risposto no sì sì volevo chiederti la domanda di Massimiliano mi fa venire come associazione spontanea tutto il grande tema musica perché il romanzo per come l'ho vissuto io è proprio intriso di di sonorità è un forte rapporto col ritmo con la spinta in avanti della della ritmicità mi chiedevo se ci sono stati dei contatti con la musica durante la scrittura se hai ascoltato musica se hai pensato a delle sonorità o invece è un suono che è nato attraverso la scrittura no in questo caso no in questo caso no io ascolto molto musica in questo caso no perché mi svegliavo come ho detto prima alle 5 e mezza nel momento in cui la casa è totalmente silenziosa e l'unica musica è l'andamento interiore ed è fondamentale per me connettersi con la musica che hai addosso l'altra parte del romanzo era il periodo del lockdown è stata scritta su un'isola dove vivo e ero in una casa su un cucuzzolo e quindi silenziosissimo non c'era musica ma quindi c'era musica perché non c'era una musica imposta ma un altro ascolto e quell'ascolto è per me oggi più importante faccio un esempio oggi lavoravo con loro i ragazzi gli spiegavo proprio guardate lì ho messo una musica ma quella musica è una cosa esteriore non nasce da dentro al lavoro quindi va tolta no perché secondo me l'interiorità è più importante pensare che tipo di musica c'è all'interno di ognuno di noi la musica crea un movimento anche se non sai battere il tempo o il ritmo però ognuno di noi ha una sua musica ognuno di noi ha veramente un suo ritmo totalmente soggettivo sì c'è una domanda lì grazie anche io vorrei tornare a farti una domanda sulla relazione tra scrittura e teatro che poi già dalla presentazione di Claudio Longhi è significante significativo perché sentendo soprattutto il processo di lavoro cioè questa sorta di filosofia del vuoto diciamo attraverso la quale tu ti poni nei confronti di una scrittura che non è progettata cioè non è non è pensata se non nell'atto cioè almeno questo ho capito mi fa venire in mente anche un processo molto teatrale appunto cioè il rapporto con l'improvvisazione e quindi ti volevo chiedere se questo processo di scrittura ha qualche cosa diciamo di quello che potrebbe essere una componente improvvisativa che si riflette anche rispetto alle tue pratiche teatrali beh è un po' quello che dicevo prima il fatto di non decidere prima cosa scrivere ha sicuramente qualcosa che accade è l'accadimento che ti frega tra l'altro perché ti sposta in continuazione una logica e poi ironicamente ma neanche tanto quando io stavo scrivendo c'era l'allora ministro della cultura Franceschini che voleva fare una Netflix della cultura no? una piattaforma della cultura teatrale in rete e allora io pensai forse sarebbe bello rispondere con una serie teatrale dal vivo e quindi mi stavo concentrando sul fatto di scrivere una lunghissima serie teatrale la cosa la cosa della serie è pazzesca perché scrivere una serie spesso per le serie usano dei drammaturghi teatrali perché devono lavorare sul tempo e quindi devi pensare che tra 20 puntate accadrà quella cosa lì come riempire queste 20 puntate quindi è un modo totalmente diverso di connettersi alla scrittura e io pensavo proprio che mi sarebbe piaciuto far diventare questo teatro romanzo romanzo teatrale una serie teatrale e fortunatamente questo non è accaduto perché se no nasceva l'ennesima maratona e quindi vi avrebbe obbligato a vedere le 24 ore però detto questo sì credo totalmente nell'accadimento ora adesso e quindi in quello che noi chiamiamo improvvisazione sì grazie mi ha colpito molto la parola incanto insieme a meraviglia curiosità che sono comunque dell'animo infantile cioè riportano al bambino che è in ognuno di noi e anche l'argomento che ha trattato a un certo punto della dislessia la dislessia che dà un problema una difficoltà è stata trasformata comunque in un punto di valore in un valore aggiunto in qualcosa che ha permesso di esplorare altre possibilità altri mondi e mi domandavo comunque se il libro fosse rivolto anche all'infanzia o agli adolescenti oppure no sono onesto con lei signora io non pensavo che sarebbe pubblicato se avrebbe stato pubblicato questa cosa quindi non ho immaginato a chi era rivolto come non lo immagino quando faccio i miei spettacoli per me è rivolto alla comunità la comunità tutta che è fatta di bambini di persone adulte le mie nipoti lo stanno leggendo quindi è accessibile anche per bambini le mie nipoti hanno uno zio così quindi sono un po' strambe però lo stanno leggendo a piccole dosi lo stanno leggendo ciao ti volevo chiedere una cosa perché questo racconto di ricordi del bambino che c'è stato è un romanzo che viene descritto come una un romanzo in trasformazione in cui anche i personaggi a un certo punto smettono di esistere e la sua forma cambia e quindi io devo continuamente accettare una novità e rinunciare a qualcosa che avevo immaginato mi porta a chiederti se secondo te questo viaggio che tu metti sia su un piano formale ma soprattutto su un piano intimo hai parlato della tua età dell'essere bambino è un tornare cioè tipo un viaggio verso ciò che noi già siamo già siamo stati quindi da adulti cercare di tornare al bambino che eravamo cercare di ricostruire quello che eravamo e che abbiamo perso oppure un viaggio in avanti un viaggio in trasformazione diventiamo qualcos'altro dentro questo incanto io penso sempre al presente nel passato nel futuro quindi per me è fondamentale il bambino che sono non che ero il bambino che ero è un altro Antonio che guardo con tenerezza il bambino che sono oggi l'uomo che sono oggi il compagno che sono oggi oggi in questo momento adesso è chiaro che quello che sono è dato da quello che sono stato però per me è molto molto importante l'ora e adesso proprio rispetto alla concezione del tempo nel senso ora sono e questo è la cosa che mi affascina di più ora sono è una condizione unica rara è una grandissima possibilità che abbiamo domani sarò non mi interessa proprio non mi interessa più ecco forse quando ero ragazzo io da grande sarò domani sarò è una cosa che io detesto le coniugazioni verbali cioè proprio a proposito del tempo infatti non sono in grado di usare un congiuntivo un condizionale cioè non le coniugazioni secondo me sono un piegare l'infinito che a me mi dà un po' mi dispiace un po' io sono forse è interessante dire noi siamo ma forse è l'unica coniugazione che ha senso penso che siamo arrivati alla fine della nostra ora cosa dici che devo aggiungere avete detto siamo arrivati alla frutta ma poi c'è tutta una sezione sul vintage che mi piace molto ma poi questa è la seconda puntata di il vintage le parole vintage lui è uno degli ultimissimi insieme a me che usa la parola autoadesivo autoadesivo si si pieno di parole della nostra era perché noi facevamo le collezioni delle figurine quindi io mi ricordo che tu scrivi lì una grandissima verità cioè che la scelta di quale autoadesivo appiccicare per primo era motivo di riflessioni di pomeriggi quando ti danno il permesso di attaccare da piccolo un autoadesivo sul frigorifero cioè il primo autoadesivo sul frigorifero è una cosa e ci pensi tantissimo perché quello poi rimane e quindi la mappatura nasce dal primo mia mamma non era così contenta degli autoadesivi però insomma va bene su questo vintage Fede scusa per concludere il discorso tu hai una grande passione a volte per i proverbi e anche per le cose le frasi fatte di cui stiamo parlando diciamo da non molto ed è interessante come riesci a mettere in letteratura qualcosa che tecnicamente non dovrebbe starci e invece è ancora una volta forse non so se sei d'accordo il ragionamento su quello che noi diciamo e non ce ne ne diamo conto perché è una frase fatta qualcosa che diciamo per scontato perché l'abbiamo costruita e il libro è pieno oltre che di altri riferimenti a numerologia sono sette capitoli però non possiamo affrontare questi temi questa è una cosa che trovo molto interessante però c'è una questione che io io non lo so cosa si può fare o non fare e questo mi rende libero io lo faccio poi dopo mi dicono queste cose in letteratura non si possono fare ma cioè il fatto che sono totalmente libero dal nessuno mi ha insegnato come si può scrivere un romanzo quindi la figata è io che ci metto tutto quello che voglio no poi poi dopo mi dicono ma questa cosa in letteratura non si fa però se pensiamo ai romanzi del settecento il romanzo del settecento era un insieme di prosa narrativa erano dei grandissimi luoghi da abitare non era non c'erano delle regole letterarie poi piano piano sono state create ma il romanzo del settecento era qualcosa di sconvolgente dove tu potevi totalmente perderti quello che dici tu delle frasi fatte boh no però al di là di questo è estremamente consapevole secondo me perché sei condizionato da quello che stiamo scrivendo adesso questo è vero scusate grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi